ERIFUSI ASML Ciao amici fiosini, come state? Spero tutto bene Oggi, a dire il vero stasera, mangeremo SuperSML McDonald's Allora, vediamo cosa c'è qua Un superpaninone Un superpanino Abbiamo le patate al bacon Bene Perfetto ragazzi Vi auguro un buon appetito a tutti Intanto E noi andiamo a gustarci questa meraviglia Ciao Sì, 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 sì. Buonissima. è veramente straordinario questo hamburger è molto buono Grazie. Dio ragazzi no È arrivato Zeus ragazzi Vieni Zeus Vieni qua dai Vieni No Vieni 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 Alla prossima! Buon appetito! Buon amore, buon amore! Bene ragazzi, adesso andiamo a mangiare le nostre patate al bello! Buon appetito! 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 Sì. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.